Nomeno Padre e Filho e Spirito Santo. Padre nostro, qui esi in Cielo, santifici il nome di Tu, adveni e il Regno di Tu, fia la tua volontà, sia in Cielo e in Terra. Padre nostro, qui esi in Cielo, sia in Cielo, sia in Cielo, sia in Cielo e in Cielo. E dimite nobis debita nostra, sia in Cielo, sia in Cielo e in Cielo. Senti, libera la nostra mano. Amen. Santo Padre, perché so che è in ascolto, venerati padri, fratelli e sorelle. In queste prediche di Quaresima ci siamo proposti di meditare sui grandi io sono, ego eimi, pronunciati da Gesù nel Vangelo di Giovanni. C'è però una domanda che si pone a proposito di essi. Sono stati davvero pronunciati da Gesù? O sono dovuti alla riflessione posteriore dell'Evangelista, come tante altre parti del Quarto Vangelo? La risposta che oggi praticamente tutti gli esegeti darebbero a questa domanda è la seconda. Io sono convinto però che tali affermazioni sono di Gesù e cerco di spiegare perché. C'è una verità storica e una verità che possiamo chiamare reale o ontologica. Prendiamo uno di questi io sono di Gesù. Per esempio quello che dice io sono la via, la verità e la vita. Se per qualche improbabile nuova scoperta si venisse a conoscere che la frase fu davvero, storicamente, pronunciata dal Gesù terreno, non è questo che la renderebbe vera. Si può sempre pensare, infatti, che chi la pronuncia sia un illuso, si inganni. Tanti hanno pensato di essere la luce del mondo prima e dopo di lui. Ciò che la rende vera è il fatto che nella realtà, al di sopra di ogni contingenza storica, egli è la via, la verità e la vita. In questo senso profondo e importante, tutte singole le affermazioni che Gesù fa nel Vangelo di Giovanni sono vere. Anche quella in cui dice, prima che Abramo fosse, io sono. La definizione classica di verità è corrispondenza tra la cosa e l'idea che si ha di essa, adeguatio, rei et intellectus. La verità rivelata è la corrispondenza tra la realtà e la parola ispirata che la proclama. Le grandi parole che mediteremo sono dunque di Gesù. Non del Gesù storico, ma del Gesù che, come aveva promesso, ci parla con l'autorità del risorto attraverso il suo spirito. Dalla sinagoga di Cafarnao, in Galilea, passiamo oggi al Tempio di Gerusalemme, in Giudea, dove Gesù si è recato in occasione della festa delle capanne. Qui si svolge il dibattito con i giudei, in cui è inserita l'autoproclamazione di Gesù che intendiamo meditare in questa meditazione. Io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Questa parola è così pregnante e così bella che i cristiani da subito la scelsero come una delle designazioni preferite di Gesù. In molte basiliche antiche, come il Duomo di Cefalù e di Monreale in Sicilia, nel mosaico dell'abside, Gesù è rappresentato come il Pantocrator, o Signore dell'universo. Tiene un libro aperto davanti a sé e mostra la pagina dove sono scritte in greco e in latino proprio quelle parole. Io sono la luce del mondo. Gesù, luce del mondo. Per noi oggi questa è una verità creduta, proclamata, ma ci fu un tempo in cui non era soltanto questo. Era un'esperienza vissuta. Come succede talvolta a noi quando dopo un blackout ritorna improvvisamente la luce o quando al mattino, aprendo la finestra, siamo inondati dalla luce del giorno. La prima lettera di Pietro ne parla come di un essere trasferiti dalle tenebre all'ammirabile luce. Rievocando il momento della sua conversione e del suo battesimo, Tertulliano lo descrive con l'immagine del bambino che esce dall'utero buio della madre e si spaventa al contatto con l'aria e alla luce del mondo. Uscendo, scrive, uscendo dal comune grembo di una stessa ignoranza, noi trasalimmo alla luce della verità, ad lucem expavescentes veritatis. Ci poniamo subito la domanda che significa per noi, ora e qui, quella parola di Gesù. Io sono la luce del mondo. L'espressione luce del mondo ha due significati fondamentali. Il primo significato è che Gesù è la luce del mondo in quanto la sua è la suprema e definitiva rivelazione di Dio all'umanità. Lo afferma nel modo più netto e anche più solenne l'incipit della lettera agli ebrei. Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo. La novità consiste nel fatto unico e irripetibile che il rivelatore è lui stesso la rivelazione. Io sono la luce del mondo, non io porto la luce nel mondo. I profeti dicevano, così parla il Signore. Gesù dice, ma io vi dico. Nel 1964, il canadese Marshall McLuhan lanciò il famoso slogan Il mezzo è il messaggio The medium is the message Volendo conciò significare che il mezzo con cui viene trasmesso un messaggio condiziona il messaggio stesso. Questo detto si applica in maniera unica e trascendente a Cristo. In lui il mezzo di trasmissione è davvero il messaggio. Il messaggero è il messaggio. Questo, dicevo, è il primo significato dell'espressione luce del mondo. Il secondo significato è che Gesù è la luce del mondo in quanto fa luce sul mondo, cioè rivela il mondo a se stesso, fa vedere ogni cosa nella giusta luce per quello che è davanti a Dio. Riflettiamo su ognuno di questi due significati partendo dal primo, cioè da Gesù come suprema rivelazione di Dio al mondo. Da questo punto di vista la luce che è Cristo ha sempre avuto un agguerrito concorrente, la ragione umana. Ne parliamo non con un intendo polemico o apologetico, cioè per sapere cosa rispondere agli oppositori della fede, ma per confermare noi stessi nella fede. I dibattiti su fede e ragione, sarebbe più esatto dire su ragione e rivelazione, sono affetti da una dissimmetria radicale. Il credente condivide la ragione con l'ateo, l'ateo non condivide nella fede nella rivelazione con il credente. Il credente parla il linguaggio dell'interlocutore ateo, l'ateo non parla la lingua della controparte credente. Per questo motivo il dibattito più giusto su fede e ragione è quello che avviene nella stessa persona tra la propria fede e la propria ragione. abbiamo casi famosi nella storia del pensiero umano di persone nelle quali non si può dubitare di una identica passione per l'una e per l'altra cosa, per la ragione e per la fede. Agostino da Ippona, Tommaso d'Aquino, Blaise Pascal, Søren Kierkegaard, John Henry Newman e potremmo aggiungere a giusta ragione Giovanni Paolo II, Benedetto XVI. La conclusione a cui ciascuno di loro è giunto è che l'atto supremo della ragione umana è riconoscere che c'è qualcosa che la supera ed è anche ciò che più nobilita la ragione umana perché indica la capacità di trascendere se stessa. La fede dunque non si oppone alla ragione ma suppone la ragione esattamente come la grazia suppone la natura. c'è un altro malinteso da chiarire riguardo al dialogo tra fede e ragione la critica comune rivolta ai credenti è che essi non possono essere obiettivi dal momento che la loro fede impone fin dall'inizio la conclusione a cui devono giungere in altre parole agisce come una pre-comprensione e un pre-giudizio non si presta attenzione al fatto che lo stesso pregiudizio agisce in senso opposto anche nello scienziato o nel filosofo non credente e in modo assai più radicale se si dà per scontato che Dio non esiste che il soprannaturale non esiste che i miracoli sono impossibili anche la conclusione è predeterminata fin dall'inizio un esempio tra tanti conoscendo la visione che Freud aveva della realtà poteva egli ammettere che l'amore universale di Francesco d'Assisi avesse una componente soprannaturale chiamata grazia naturalmente no e infatti egli fa di esso di quell'amore universale una derivazione dell'amore genitale San Francesco è secondo lui Freud cito è colui che è andato più lontano nell'usare l'amore a beneficio del suo sentimento interiore di felicità in altre parole amava Dio Francesco gli uomini la creazione e in modo tutto particolare il crocifisso perché questo gli dava piacere lo appagava l'uomo moderno invece della verità pone la ricerca della verità come valore supremo il grande illuminista Lessing ha scritto se Dio tenesse stretta nella mano destra tutta la verità e nella sua sinistra solo l'aspirazione sempre viva la verità fosse anche a condizione di essere eternamente in errore e mi dicesse scegli mi inchinerei umilmente verso sinistra dicendo questa padre la pura verità appartiene solo a te la ragione è abbastanza semplice finché si è in fase di ricerca sei tu che conduci il gioco il protagonista mentre al cospetto della verità trovata tu non hai più scampo devi prestare l'obbedienza della fede la fede pone l'assoluto mentre la ragione vorrebbe continuare indefinitamente la discussione come la bella sherea zad di mille e una notte la ragione umana ha sempre una nuova storia da raccontare per ritardare la resa ci sono due sole possibili soluzioni all'attenzione tra fede e ragione o ridurre la fede dentro i limiti della pura ragione oppure rompere i limiti della pura ragione e prendere il largo un po' come quando l'Ulisse di Dante raggiunge le colonne d'Ercole che erano considerate le estreme confine della terra e anziché fermarsi decise dice Dante di fare dei remi ali al folle volo devo però essere coerente con le mie permesse il discorso su fede e ragione prima di diventare un dibattito tra noi e loro tra i credenti e non credenti deve essere un dibattito tra noi stessi perché il peggiore tipo di razionalismo non è quello esterno ma quello interno alla teologia San Paolo scriveva ai Corinzi la mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza ma sulla manifestazione dello spirito e della sua potenza perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana ma sulla potenza di Dio e ancora le armi della nostra battaglia non sono carnali ma hanno da Dio la potenza di abbattere le fortezze distruggendo i ragionamenti e ogni arroganza che si leva contro la conoscenza di Dio e sottomettendo ogni intelligenza all'obbedienza di Cristo ciò che l'Apostolo temeva si è spesso verificato tra noi la teologia soprattutto in Occidente si è sempre più allontanata dalla forza dello spirito per affediarsi alla sapienza umana il razionalismo moderno esigeva che il cristianesimo presentasse il suo messaggio in modo dialettico cioè sottoponendolo sotto tutti gli aspetti alla ricerca e alla discussione affinché potesse inserirsi nello sforzo generale filosoficamente accettabile di una comune sempre provvisoria comprensione del destino umano e dell'universo ma così facendo l'annuncio sulla morte e risurrezione di Cristo viene sottoposto a un'istanza ritenuta superiore non è più un kerigma è un'ipotesi tra le tante il pericolo inerente a questo approccio alla teologia è che Dio viene oggettivato diventa un oggetto di cui parliamo non un soggetto con cui o alla cui presenza parliamo un lui peggio alle volte un esso mai un tu è il contraccolpo di aver fatto della teologia una scienza il primo dovere di chi fa scienza è quello di essere neutrale rispetto all'oggetto della propria ricerca ma può uno essere neutrale quando c'è di mezzo Dio? questo fu il motivo principale che mi spinse a un certo punto della mia vita ad abbandonare l'insegnamento accademico della teologia e a dedicarmi a tempo pieno alla predicazione la conseguenza di quel modo di fare teologia infatti è che essa diventa sempre più un dialogo con l'elite accademica del momento e sempre meno un nutrimento per la fede del popolo di Dio da questa situazione si esce solo con la preghiera parlando con Dio prima ancora di parlare di Dio se sei teologo pregherai veramente e se preghi veramente sarai teologo diceva un antico padre del deserto Evagrio Pontico Sant'Agostino ha fatto la sua teologia più duratura io aggiungo anche la sua più sicura parlando con Dio nelle confessioni aiuta anche la contemplazione e l'imitazione della madre di Dio ella non ha mai avuto a che fare con idee astratte su Dio sul suo figlio Gesù solo con la loro vivente realtà ho accennato padri fratelli e sorelle a un secondo significato dell'espressione luce del mondo ed è adesso che vorrei dedicare l'ultima parte della mia riflessione anche perché è quella che ci interessa penso più direttamente si tratta dicevo del significato per così dire strumentale in cui Gesù è luce del mondo in quanto cioè fa luce su tutte le cose fa nei confronti del mondo quello che fa il sole nei confronti della terra il sole non illumina e non rivela se stesso ma illumina tutte le cose che sono sulla terra fa vedere tutte le cose nella loro luce giusta anche in questo secondo senso Gesù e il suo Vangelo hanno un concorrente che è il più pericoloso di tutti essendo un concorrente interno un nemico in casa l'espressione luce del mondo cambia completamente di significato secondo che si prende l'espressione del mondo come genitivo oggettivo o come genitivo soggettivo a seconda cioè che il mondo sia l'oggetto illuminato o invece il soggetto che illumina in questo secondo caso non è il Vangelo ma il mondo che fa vedere tutte le cose alla propria luce l'Evangelista Giovanni esortava i suoi discepoli con queste parole non amate il mondo né le cose del mondo se uno ama il mondo l'amore del Padre non è in lui perché tutto quello che è nel mondo la concupiscenza della carne la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita non viene dal Padre ma viene dal mondo il pericolo di conformarsi a questo mondo la mondanizzazione direbbe il nostro Santo Padre è l'equivalente nell'ambito religioso e spirituale di quello che nell'ambito sociale chiamiamo la secolarizzazione nessuno io meno di tutti può dire che questo pericolo non incombe anche su di lui o su di lei un detto attribuito a Gesù in uno scritto antico non canonico dice se non digiunerete dal mondo non scoprirete il regno di Dio ecco il digiuno oggi più necessario di tutti digiunare dal mondo nesteue in to cosmo secondo quel detto antico greco il mondo di cui parliamo e al quale non dobbiamo conformarci non è naturalmente il mondo creato e amato da Dio non sono gli uomini del mondo ai quali anzi dobbiamo andare sempre incontro specialmente ai poveri gli ultimi sofferenti il mescolarsi con questo mondo della sofferenza e dell'emarginazione è paradossalmente il modo migliore di separarsi dal mondo perché è andare là da dove il mondo rifugge con tutte le sue forze è separarsi dal principio stesso che regge il mondo l'egoismo prima che nelle opere il cambiamento deve avvenire nel modo di pensare San Paolo esortava i cristiani di Roma con le parole non conformatevi a questo mondo ma trasformatevi rinnovando il vostro modo di pensare per poter discendere la volontà di Dio ciò che è buono a Lui gradito e perfetto all'origine della mondanizzazione ci sono tante cause ma la principale è la crisi di fede è la fede il terreno di scontro primario tra il cristiano e il mondo è per la fede che il cristiano non è più del mondo inteso in senso morale il mondo è tutto ciò che si oppone alla fede questa è la vittoria che ha vinto il mondo la nostra fede scrive Giovanni nella prima lettera nella lettera agli Efesini c'è a questo riguardo una parola sulla quale vale la pena soffermarsi un tantino più a lungo dice anche voi eravate morti per le vostre colpe i vostri peccati nei quali un tempo viveste alla maniera di questo mondo seguendo il principe delle potenze dell'aria quello spirito che ora opera negli uomini ribelli l'esegeta Heinrich Schlier ha fatto un'analisi penetrante di questo spirito del mondo considerato da Paolo il diretto antagonista dello spirito di Dio un ruolo decisivo svolge in esso l'opinione pubblica oggi possiamo chiamarlo in senso anche letterale lo spirito che è nell'aria perché si trasmette soprattutto attraverso lettere i mezzi di comunicazione dice Schlieri dunque si determina uno spirito di grande intensità storica a cui il singolo difficilmente può sottrarsi ci si attiene allo spirito generale lo si considera ovvio agire o pensare o dire cosa contro di esso è considerato cosa insensata o addirittura ingiusta un crimine allora non si osa più porsi di fronte alle cose alle situazioni e soprattutto alla vita in modo diverso da come esso le presenta la sua caratteristica è di interpretare il mondo e l'esistenza umana alla sua maniera è quello che chiamiamo l'adattamento allo spirito dei tempi la morale del mozartiano così fan tutte oggi possediamo un'immagine nuova per descrivere l'azione corrosiva dello spirito del mondo i virus del computer per quel poco che io ne so il virus è un programma malignamente progettato che penetra nel computer per le vie più inaspettate scambio di email siti internet eccetera e una volta dentro confonde o blocca le normali operazioni alterando i cosiddetti sistemi operativi lo spirito del mondo agisce in modo analogo penetra in noi per mille canali con l'aria che respiriamo e una volta dentro cambia i nostri modelli operativi al modello Cristo sostituisce il modello mondo il mondo ha anche esso la sua trinità venerati pari fratelli e sorelle i suoi tre dei o tre idoli piacere potere denaro tutti vi pregliamo i disastri che questi creano nella società ma siamo sicuri che nel nostro piccolo noi stessi ne siamo immuni la nostra più grande consolazione in questa lotta con il mondo che è fuori di noi e quello che è dentro di noi la consolazione più grande è sapere che Cristo continua da risorto a pregare il Padre per noi con le parole con cui si concedò dai suoi apostoli padre non prego che tu li tolga dal mondo ma che tu li custodisca dal maligno essi non sono del mondo come io non sono del mondo come tu hai mandato me nel mondo anch'io ho mandato loro nel mondo non prego solo per questi ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola e dal profondo del nostro cuore noi diciamo Amen Amen nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo e dillo